La nuova Volvo XC40 Recharge è la prima auto del brand svedese a trazione completamente elettrica, che segna il percorso di elettrificazione di Volvo. La XC40 si presta all'elettrificazione grazie alla versatilità della piattaforma CMA, in grado di ospitare sia i propulsori endotermici che quelli elettrici. Il propulsore è in grado di erogare 408 CV di potenza ed oltre 400 Km di percorrenza con una singola carica. La batteria dispone inoltre di una tecnologia che le consente, tramite fast charger, di ricaricare l'80% della capacità in soli 40 minuti. L'attenzione di Volvo alla sicurezza è da sempre uno dei punti forti del brand e anche su questa 100% elettrica non viene meno. La batteria è protetta da una gabbia di sicurezza in alluminio estruso ed è posizionata al centro della carrozzeria, abbassando così il baricentro e migliorando l'handling. Si aggiorna anche il sistema di infotainment, introducendo per la prima volta un nuovo software basato su Android, consentendo così l'accesso a Google Map, Play Store e Google Assistant. La XC40 Recharge vanta inoltre un'ampia capacità di carico divisa nei numerosi scompartimenti ricavati grazie alla mancanza del propulsore endotermico e di tutte le componenti che esso comporta. Grazie per la visione!